Le 837, Morciba, Roma non è stata costruita in un giorno, cantano, però vi assicuriamo che basta un giorno di non raccolta dell'immondizia che è una roba indecente. Sicuro, sindaco Gualtieri, che vogliamo candidare questa città in queste condizioni all'Expo? Siamo sicuri che vogliamo esporci all'utile mondiale? Ma dipende dal tema dell'Expo, cioè se facciamo discariche... Esatto, discariche... Il mondo sarà ricoperto di rifiuti, guardate qua! Ah, è un'installazione! Un attimo, immaginate a Wall-E, no? Ecco, immaginate Wall-E, Roma è la parte sotto. E sia chiaro, non ci stiamo chiamando fuori, perché la responsabilità è di tutti noi che questa città la abitiamo, la viviamo e la gestiamo veramente nel peggiore dei modi. Cioè, non vogliamo andare a cercare anche un cassonetto, perché sì, abbiamo ancora i cassonetti. In tante zone, per esempio il centro storico, il primo municipio, abbiamo ancora i cassonetti, ma andiamo a cercare il cassonetto vuoto, no, no, il cassonetto d'anticaso è pieno. Eh, vabbè, sti cazzi, la lascio qui. Qualcuno lo raccoglierà, e non funziona così. E le 838, siamo tutti in pigiama, abbiamo autoproclamato il pigiama party, ma voi a casa, amici, come dormite? Perché il pigiama... Dormite. Dormite. Guarda che queste persone si sono alzate da poco, in coda, quelli si addormentano tutti. Tutti, eh. Però se lui dice dormi... Per esempio, in una catena famosissima, che citerò, tanto non è problema, credo che sia intimissimi, mi raccontava mio figlio che i commessi erano tutti quanti in pigiama, anche l'altro giorno. Ah, ogni tanto stanno in pigiama. D'altra parte li vendono, quindi... Li vendono, certo. Posso sognare che magari il Black Friday, chi è la testimonial di intimissimi? Eh, diletta, diletta, diletta. Infatti stavo dicendo, ma un giro da Vittoria Segreta oggi no. Eh, per dire, eh, per dire. Quanto costano i pigiami di Vittoria Segreta, Vittoria... Eh, Veronica, perdonami, Vittoria. Eh, un bordè, costeranno parecchio, no? Allora, quelli di Vittoria Segreta, in realtà i prezzi sono anche abbastanza onesti. Affordable, ok. Adesso, che poi dipende. Dipende dalle tasche, certo. Ad esempio, sono tra i tuoi preferiti, perché stai vestendo una cosa che è evidente che non usi quando dormi. No, allora, questa in realtà è una vestaglia che mi è stata regata da mia madre, tornata da un viaggio. Perché sa come in realtà vai a dormire. Sì, perché io dormo appunto con il magliettone, non ho il pigiamone perché ho caldo. Sì, secondo me se facciamo un rapido sondaggio tra le ascoltatrici e soprattutto anche mia moglie, grande fan delle magliette che mi regalano. Sempre, sempre dorme sempre con questa moglie. Almeno hanno un utilizzo. Almeno sì. E sotto? Mutante e basta. Sì, mutante e basta. Non hai piedi freddi? Certo che c'è i piedi freddi. E me li mette lì alle 4 del mattino. Scherzi. Sia mai che mettano loro il sotto, no? Adesso, con questa cosa del Pilates, è snodatissima. Ma arriva la sua schiena. Maria sta freddata, capito? Io non so voi. Io ogni tanto o boxer e maglietta d'estate o il pigiama, ma senza intimo. Io non capisco come le dormono con le mutande e il pigiama. No, il pigiama e le mutande non esiste. Siamo nell'età, proprio ieri, sono passato, nel cui ormai il tuo migliore amico è... L'andrologo. È l'andrologo. Grande ascoltatore. Ogni volta, mentre mi diciamo, vado lì, mi chiede della radio. Infatti la domanda è, ma durante la visita, come era successo a me, tipo, eh, allora queste iene, ma le dirò, guardi, c'era stata un'edizione... Mi chiedeva di Patrizio. Ti dico, se guarda questa cosa di Patrizio e Linus mentre andava, diciamo, a scalare nel mio interio. Però detto ciò, ti consiglia di dormire senza mutande dallo slip-in. È certo, è certo. Comunque, i pigiami di Victoria's Secret, abbiamo detto, anche sui 50 euro si trovano. È stata criticata, ma anche un po' invidiata, nel 2017, Giorgina Rodriguez, moglie di CR7, che ha indossato un pigiama di Louis Vuitton da 2.700 euro. Però, ammazza! Ma perché, fino agli anni 90, il pigiama era un po' a uso esclusivo all'interno delle mura domestiche. È stato sdoganato dalle TLC, nel video di Creep, che l'hanno indossato in seta. Jennifer Aniston utilizzava quello in Frenze, aveva quello a quadretti. E nel 2000, proprio Dolce Gabbana, lo ha sdoganato, quindi ha mandato di moda l'utilizzo anche in giro, quello che viene chiamato un day wear. Ah, quindi che si può indossare di giorno. In realtà, Gabriele, è una cosa che a noi potrebbe far comodo. Quante volte scendete a buttare, appunto, la spazzatura in pigiama, la domenica? È un diritto. Ci sono pigiami che sembrano pantaloni jeans e la parte sopra che sembrano gambe? Sì, li avevo. L'ho fregato per un paio di volte anche chi stava con me perché diceva, quello è un pigiama. Adesso le star li scelgono anche per il red carpet. Sono tantissimi che vanno. Citane uno. Ce n'è qualcuno che ha fatto il red carpet in pigiama? C'è Selena Gomez, che li utilizza molto spesso, sì. E le star, le influenze italiane. Ma io al prossimo red carpet te lo faccio in pigiama. E c'era Snappel, lo scultore, l'artista che andava spesso in pigiama. Lo abbiamo incontrato anche una volta. Lui era pigiama e ciabatte. E ciabatte, certo. Però lo faceva lui. È stato il primo. È stato il primo a girare con le infradito, anzi, con le ciabatte a faccia. Me lo ricordo benissimo. E calzino. E calzino, e calzino. Lui comunque ha indosso il cappotto sopra. E ultima cosa sui pigiami. A Perugia, nel 2015, il 23 luglio, è stato fatto un pigiama party da record. Si sono presentati ovviamente tutti quanti in pigiama. Grandi, piccoli, hanno organizzato delle attività legate appunto al dormire e al pigiama. Ecco, in quel caso però mettete l'intimo. Sì, magari. Sennò diventa un po' tutto... A vostra scelta. 8.43, si diceva pigiama. Abbiamo tirato fuori dal cilindro una delle canzoni più belle di Vasco. È il momento in cui è il caro cazzo di Chiamate Roma Trigono Triuno. Il momento nel quale si canta a squarciagola abbassando il finestrino per far sentire che state ascoltando radio di Patrizio Mattei. di Patrizio Mattei. di Patrizio Mattei.